Ciao ragazzi, bentornati a questa cucina che amo tantissimo, sono circondata da persone che amo in questo studio. Voi non vedete tutti, ma io li adoro, perché veramente stiamo facendo un viaggio insieme. In questo viaggio c'è anche lui, Gaudenzio Calabrese. Ciao Gaudenzio! Ciao Gil, buongiorno a tutti! Allora, noi siamo tutti qua insieme a fare che cosa? Non solo ricette, ricette sono, insomma, la ciliegina sulla torta. Quello che stiamo provando di fare è imparare di affrontare la tavola in modo diversa. Allora, Gaudenzio, tu sei un grandissimo sportivo, lavoriamo insieme da anni sui trampolini, però noi sportivi, come risolviamo il problema tavola e sport, sport e tavola? Allora, cerchiamo ovviamente un equilibrio, un punto di equilibrio tra quella che è l'idea di un pasto che magari può pesantirci e può pesantire anche i nostri amici a casa che pensano ad alcune pietanze che ricorrono sulle nostre tavole e che sono ovviamente già nella nostra idea un pochino più grasse, noi invece andiamo a recuperare una ricetta e ad introdurre degli alimenti che sono biologici, sani, naturali e quindi a sostituire quelli che noi normalmente utilizziamo come grassi con degli ingredienti un pochino più salutari e meno grassi. E non solo, è gustosi, gustosi ragazzi, gustosi. Allora, questa ricetta di questa puntata è dedicata a un classico, il polpettone. Ok, quando ti dico polpettone che ti passa in mente, ma come può essere un polpettone a mai dire di dieta che è un polpettone ricco di grassi e saturi e la carne che è veramente intrinse di grasso, che si scioglie, che rende quel polpettone gustoso? Beh, abbiamo la soluzione, ma non ve lo svelo immediatamente. Io voglio ritornare su questa importanza della tavola, Gaudi, di mangiare... Diciamo, tutti noi vogliamo ogni tanto mangiare non soltanto per placare la fame, ma per qualcosa di più profondo. Sì, allora possiamo immaginare ad esempio nelle nostre tradizioni il sederci a tavola e anche mangiare con una convivialità. E alcune delle nostre ricette, di quello che anche proponiamo oggi, ci ricorda proprio la tradizione, la convivialità, la familiarità e la tavola in famiglia. Magari, non so, la tavola della domenica, Gil? La tavola della domenica e non solo, ragazzi. Pensiamo, allora, c'è il grande problema delle diete, lo sai quale il problema sia? E sia che molte persone disnescano loro nutrizioni con quella della famiglia. È impossibile, secondo me non è fattibile di tenerlo a lungo durato, o sbaglio? No, è molto complicato, perché poi magari i nostri amici, le nostre amiche che si districano e si devono districare in cucina, devono preparare qualcosa per loro, qualcosa magari per il figlio che è un pochino più a dieta per stare attento all'allenamento, e magari il figlio più piccolino che invece ha bisogno di qualcosa di più gustoso e salutare, quindi... Con uno problema enorme, ok? Tu, dalla parte tua, vedi semplicemente qualcosa che è un po' triste, un po' di cartone, e poi vedi gli altri in famiglia mangiare le cose che tu avresti voluto mangiare. Con questa ricetta abbiamo risolto tutto. Allora, andiamo a preparare e svelare innanzitutto gli ingredienti di questa ricetta, perché è molto semplice, molto veloce e abbastanza anche, diciamo, utilizzabile in diverse salse. Però questo impasto includiamo un petto di pollo, 4-5 zucchine, io uso quelle romanesche perché le trovo più insaporite, però qualsiasi zucchine va bene, pangrattato, due uova, gli odori, gli odori che possono essere basilico, l'aglio, l'origano, questa è una questione un po' di gusto, perché qua, a mai dire dieta, a noi piace che ognuno fa suo la ricetta, e un pizzico di peperoncino. Allora, è molto semplice questo impasto, perché le mettiamo le cose insieme rapidamente, ovviamente uso un robot di sminuzzare le nostre zucchine, di solito io uso lo zucchine e poi nella zucchine comincio a mettere anche gli odori, lo uso un robot, li faccio sminuzzare, non devono neanche essere troppo, cioè non deve essere una crema, ok? La ragione che uso la zucchina è molto semplice, è molto porosa, acquosa porosa, è la vostra morbidezza del polpettone nasce dalla zucchina stessa. Si potrebbe anche tentare con una melanzana, però uno deve decidere se vuoi usare, io preferisco la zucchina, onestamente. Andiamo avanti, poi anche il petto di pollo, usando un classico robot di cucina, prendete il petto di pollo e lo potete semplicemente, frullandolo, farlo diventare, diciamo, una sorta di cremina, una sorta di, come si chiama, come la polpa della carne per l'hamburger. Sì, esatto, un pochino più morbida e possiamo dare anche un'alternativa con il tacchino, per esempio, Jill, no? Esatto. Possiamo fare lo stesso per usare il petto di pollo o il petto di tacchino, comunque delle parti del tacchino che è sempre una carne magra. Poi possiamo aggiungere gli odori, io adoro per esempio a mettere il basilico, e lo trovo che è basilico, poi basilico fresco, mi piace basilico fresco, lo lascio anche larga, non è necessario sminuzzarlo troppo, o lo potete anche frullarlo con le zucchine, e poi per legare le uova. Le uova sono sempre un legante molto importante, ok? E poi mi dai il pangrattato, per favore? Assolutamente, eccolo. Lo versiamo? Sì, vai. Il pangrattato. E qui, di nuovo, dovete andare ad occhio, perché il pangrattato dipende del pangrattato, dipende dell'impasto, dipende della grandezza dell'uovo, e più o meno bagnato l'impasto. Per raffermare l'impasto, ok, continuiamo ad aggiungere finché troviamo la consistenza abbastanza, diciamo, raffermo, per intenderci. Ma mentre noi stiamo preparando il nostro impasto, andiamo a scoprire insieme proprio i star di questa puntata. Petto di pollo La carne bianca di pollo è magra, contiene pochi grassi, un ridotto contenuto in colesterolo, è prive di carboidrati e ricca di sostanze nutritive essenziali. Molte proteine nobili, calorie, vitamine e minerali come zinco, rame e ferro. Potenzia la massa muscolare e rafforza le ossa e le mantiene sane. E antistress. Il pollo contiene vitamina B5 e triptofano, due nutrienti in grado di ridurre naturalmente lo stress. La vitamina B5 aiuta a sostenere le ghiandole sorrenali e in particolare il triptofano è un amminoacido che ha il grande potere di rilassarci e renderci felici, assicurandoci anche una buona qualità del sonno. Tutto questo perché aumenta i livelli di serotonina nel cervello e migliora l'umore. È ricco di magnesio. Il magnesio è un minerale essenziale per la nostra alimentazione che contribuisce a mantenerci in salute svolgendo oltre 300 reazioni biochimiche nel corpo. Zucchine. Regolarità del transito intestinale, funzionalità del sistema digerente. Viene importata in Europa intorno al 1500 dopo la scoperta dell'America. L'Italia è sempre stata una grande produttrice di zucchine e qualche anno fa è entrata anche nel Guinness dei primati per la zucchina più grande del mondo raccolta in provincia di Ferrara. La zucchina da Guinness era lunga ben 2 metri. Allora nel 2013 il nuovo Guinness dei primati è stato registrato a Giacalone in provincia di Palermo dove è stato raccolto una zucchina lungo 2 metri 10 centimetri. Le zucchine sono tra gli ortaggi a minor contenuto calorico. 100 grammi di zucchine crude infatti apportano al nostro organismo soltanto 11 calorie. Non contengono né grassi saturi né colesterolo. La loro buccia è una buona fonte di fibre utile al corretto funzionamento dell'intestino. Uova. La loro principale qualità è infatti contenuti proteine nobili di alto valore biologico. Complete cioè degli aminoacidi essenziali che vengono impiegati dal nostro corpo per il mantenimento e la costruzione delle strutture cellulari. E per quanto riguarda il colesterolo? L'uova ne è di certo ricco ma le lecettine contenute nel tuorlo favoriscono l'attività dell'HDL cioè del colesterolo buono. Bisogna anche considerare che il colesterolo che si misura nel sangue non è direttamente connesso a quello che si trova negli elementi come le uova ma viene formato anche dal fegato a partire anche dalle zuccheri e cereali raffinati. I nostri star sono fabolosi e ritorniamo sempre su questo fatto che noi possiamo abbinare il cuore alla tavola perché dico cuore? Io secondo me c'è una fonte psicologica che non dovrebbe mai, mai poi mai essere ignorato perché è lì dove la dieta frega la gente perché la dieta non è fattibile tenerlo sempre... No, non è possibile non è possibile anche perché poi la nostra mente ci ovviamente riporta magari con drasticamente, velocemente ad avere una fame magari che con le restrizioni che abbiamo seguito per tanti giorni è una fame molto molto importante e quindi ci fa andare fuori da tutti quelli che sono i limiti o magari le accortezze che abbiamo seguito per la nostra alimentazione. Mi dà un altro po' di pangrattato per favore? Allora, un altro po' di pangrattato e cominciamo sempre di finire il nostro polpettone che ripeto, vado ad occhio allora se vogliamo fare quello che è super super salutare lo lasciamo l'impasto esattamente com'è però vi posso dire quando faccio la cena e voglio veramente fare un effetto wow io faccio anche con un cuore di gorgonzola speriamo che Sascha Sorrentino non mi abbia appena sentito però dai, dai perché quando... Ci sta, ci sta, dai ci sta, ragazzi perché mai dire dieta vuol dire cominciare di cambiare piccoli fattori di ogni piatto mangiare in compagnia mangiare con tutta la famiglia mangiare tutti i stessi piatti e questo diventa qualcosa più fattibile per la lunga durata per tutta la vita allora vado a... diciamo mi faccio qui la mia polpetta ma noi abbiamo il nostro diciamo il nostro forno magico il nostro è miracoloso ok come potete vedere il nostro polpettone può essere modellato con le mani tranquillamente facciamo un... ci potremmo anche secondo me anche fare dei hamburger se vogliamo un hamburger di pollo perché la zucchina rende molto più morbido l'impasto molto più gustoso e andiamo sei pronto per fornare? sì lo faccio io sei pronto? aiutami tu fai uno, due, tre forniamo magia! voilà eccoci allora comunque il nostro polpettone esce con la stessa sembianza di uno polpettone classico e ti devo dire che ovviamente c'è qualcuno che dice non è quello della corne dice amore però piano piano possiamo anche ai nostri figli anche ai nostri mariti insegnarli che il gusto a volte può essere anche destrato no ti prego dimmi che questo non è invitante un polpettone se io potessi io farei un ristorante solo di polpettone no al tono arriverebbero tutte le nonne d'Italia Giulia perché il polpettone sai che è un must per le nonne no poi l'altra cosa è le polpettone è onestamente anche un modo per recuperare un sacco di cose in cucina perché magari possiamo mettere un po' di zucchine possiamo mettere un po' di verdure e esce fuori un piatto invitante ok per tutta la famiglia e tu non dovrai più mangiare separatamente da tua amatissima famiglia e tutti quanti con mai dire dieta non sono più a dieta anzi sono su un viaggio di mangiare con più consapevolezza imparando quello che fa gli alimenti per il nostro corpo e diciamo mangiando bene assolutamente bene sì sì certo questo non direbbe mai nessuno che è un piatto per stare attenti alla linea allora ragazzi vi aspettiamo alla prossima puntata insieme la prossima ricetta mai di di dieta mi raccomando amatevi e trattatevi bene alla tavola e vedrai che la tua salute risplende baci ciao